Benvenuti, benvenuti a un nuovo anno ad Hogwarts. Che cosa ci fa qua la Tomodachi? Devo inventarmi subito qualcosa prima che distruggano tutto. Giucas, Gorsto Pisani e tutti voi della Tomodachi dovrete risp... John Magic! Mi presento sono Dean Podmore. Ah, ho capito. NANNY! 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 Ragazzi ho veramente bisogno di trovare il mio amico se no io v'ammazzo, capito? Oh, ma il mio amico! Eccolo! Ecco, io sono gli altri, voi! Dove sei, amico? Costo Pisani, sei? Costo Pisani? Eh? Sì, bisogna andare al cellulino centrale, Costo Pisani. Come ci si fa a sedere, bimbi? Con le gambe. Boh! Oggi, come sapete bene, credo, studieremo i dissenatori. Qualcuno di voi sa qualcosa sull'argomento? Sì, io! Ah, i dissenatori nasce a Porto Sant'Elena nel 1942. Non proprio! Parlarne se è possibile io, visto che ho alzato la mano, però non mi ho visto, professore. Dai, venga! È giusto dare... Bacio? Tramite questo bacio loro riescono a far levare dalla persona che viene baciata tutti i ricordi belli, rendendo quella persona, diciamo, sempre più depressa, fino a farla arrivare addirittura a un morto, tra virgolette, vivente. All'occhio! Poi, un'altra particolarità, quello non materiale, è semplicemente un fascio di magia, felice, ed è meno efficace. Mentre il patrono, fisico, che oscura. Scusi, non sono abituato. Eh, ma, i dissenatori, ma... Con calma, eh! Ci vanno in bagno? Ma che domanda! Cris! Meno a te che si... Oh, sì, l'altro! Io so che si ricordava molto velocemente. Comunque volevo... Oh! No, non ci posso credere! No! Sono... Great Maxxs! E forse era meglio se me lo dicevi. E... Questo... dovrebbe essere Enricotta ciao io mi conosco va bene siamo noi ti riordi io sono venuto qua mi pare mi ha cacciato mi vuole imparare i magici che cazzo chi è questo e devi mi sa c'è un attimo un problema andiamo andiamo allo smistamento vai dai andiamo eccoci qua piano ragazzi piano aspetta lì c'è del casino forse sono loro i miei compagni vedo tutti grifondoro non so se sono grifondoro sono sicuramente da aiutare vedo del colore rosso nelle loro divise quindi penso proprio di sì ragazzi ragazzi mi riusci ma mio pane mio pane mio pane beh infatti vedo tutti vedrò i miei compagni ragazzi è stato un piacere buon proseguimento ciao ciao ragazzi ciao ragazzi come si fa a imparare i cazzi ragazzi ragazzi come si fa a fare un bel incantesimo dai c'è un professore corrotto qualcuno ci dà l'incantesimo a gratis ragazzi andiamo a cercare andiamo a cercare in giro ma sconducici da lui andiamo inzana potenza oh professore 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 mi deve da libri a gratis il discorso il discorso è che noi si è preoccupati perché c'è chi ci fa il culo ecco professore professore volevano dire se per favore potevano fare delle culo cosa vuole che faccio? io sugar voglio andare assolutamente alla foresta proibita per drogarmi mi può dare una mano? oh ovvio che ci vuole come si fa? mi sto andando addosso eccolo mi sto andando addosso dov'è il bagno? dov'è il bagno? dov'è il bagno? dov'è il bagno? e allora senti gusto c'è una nuova missione per oggi ci aiuterà il nostro fratello sugar McAllister no sugar ciao carissimo piacere piacere allora praticamente vogliamo andare a grattare la polvere da ragni che è droga voglio drogarmi capito? bello ma voi cosa sapete fare di incantesmi? io mi so fare a sponi per il resto niente da solo? si vabbè questa è magia puova bravissimo quella bella è il cazzo andiamo allora va oh bezuki dove siete? oh no 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 via 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 che c'è? ci sono le mangio monte andiamo andiamo no firmati perché no? e mangia morte e mangia morte tutti da soli nel lavoretto e mangia morte sì ma non si ravi no raggiunga è un po' c'è il caso scusa no no fatti una noi siamo degli studenti che volevano scoprire un po' c'era oltre lasciate la voce noi volevamo solo della droga volevamo soltanto della droga esplorare un po' la zona costante alla scuola per recuperare la droga e io voglio diventare un mangio a morte ok ci penso io ora volevi la droga? sì che cazzino mangia questo che cos'è? mangia questo no non mi fido sembra un cazzo lo mangio io lo mangio io l'ho mangiato cos'è che trovi? io una grande euforia mi sta crescendo il cazzo gusto è un casino oh cazzo in crescita il cazzo in crescita noi siamo i mates noi volevamo solo di la finia mi corsa oh 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 vai oh oh mi stanno tirando pesanti addosso scappiamo no gusto via 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 oh ma questi sono colpi di rivoltella ci sono state bene avete visto i mangiamorte? sì l'abbiamo visto erano fatti di sterco mi pare dove sono andati? il cazzo sai cosa fare? il cazzo ti si piace è gigante arrivi giusto all'attenzione tu erano belli stranissimi eh sì perché purtroppo avuto un grosso problema eccoci morta andata vai raga sono io Wolf sono Smith Smith? sì sì ci siamo già conosciuti un pa' di volte eh? abbiamo preso un te insieme? eh no più che altro ho ucciso allora stai zitto padrone padrone spostate spostate giukas dietro ah non è che sono esattamente un mangio a morte io sono il dio assoluto del caos io sono lord wolf no anche qua è lord wolf ho capito e chi rappresenta? chi è? io rappresento il capo della mia grande famiglia che sarebbe? quelli che voi chiamate i mangio a morte mio padre non ci capisco più nulla io montaggi dinamici e freschi un freebooter che va in alto non si ferma proprio mai con il montaggio del capo capo non ci capisco più nulla io verona io qui è consiglio più nulla io Grazie a tutti.